Buonasera, ciao ragazze, ciao belle, ciao amiche di Nails, come va? Tutto bene? Niente, allora, quindi, 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 siamo arrivati a un bel video di una scoperta che ho fatto su Ali, di questo nuovo brand, super super, diciamo, stellato e ho voluto testare qualche prodotto, diciamo, no? Oddio, testare, ancora non l'ho testato perché mi sono, diciamo, appena arrivati, scusate che, ecco, stavo dicendo, ancora non li ho testati perché mi sono appena arrivati, arrivano con questo bellissimo pa, questa bellissima confezione, c'era sulla sua pellicola, io l'ho tolta per accelerare i tempi e poi, aiuto, al filo, arriva praticamente con questo, diciamo, questa bustina molto, molto chic con praticamente tutti i riferimenti, il sito ufficiale, questo è il sito ufficiale, si possono acquistare questi prodotti sia su Ali che su Amazon e qua i vari, praticamente, social, ok, allora, ho acquistato questi, io li ho già aperti e visti i colori, sono tutti Ketais, come avete capito dalle calamitine, sono tutti Ketais e adesso voglio cominciare a testare questi, mi hanno colpito, perché nello store i colori erano pazzeschi e ho detto, ma, sai, è un po' tutto, la foto è un po' tutta un chissà, però poi nei momenti in cui mi sono arrivati li ho aperti, beh, ragazze mie, diciamo che sono ancora più belli, sono ancora più belli che nella realtà, allora, non ci perdiamo, partiamo subito, e io ho preso praticamente questi colorini, che adesso andremo ad aprire insieme, allora, il 3, DC003, allora sono praticamente 10 ml, qui dietro praticamente, no, non abbiamo praticamente gli ingredienti, no, gli ingredienti non ce li abbiamo, ok, allora, cominciamo subito con questo, guardate che bello il packaging, sono veramente, ma veramente, sciccosi, allora io faccio così, perché non mi piace e lo metto sotto, guardate che meraviglia, proprio bello, 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 non abbiamo neanche bisogno di mettere il suo tappino, allora, il prezzo di questi, io ovviamente, li ho messi nel carrello, sono prodotti professionello, li ho messi nel carrello, quando mi sono andati in offerta li ho acquistati, quindi non so dirvi il prezzo, credo sui 3-4 euro, ok, adesso cominciamo già a stenderli, io mi sono già preparata le tip con i suoi numeri, e andiamo subito alla stesura, DC003, 3, adesso vi faccio subito vedere, c'è veramente un tripudio di colori, di luci, di brillantini, è qualcosa di pazzesco, andiamo a stenderlo, no vabbè, che ve lo dico a fa, che ve lo dico a fa, cosa ve lo dico a fare, allora, innanzitutto, proprio è super super pieno, è un colore bello pieno, come potete vedere, con una passata, si ottiene un risultato proprio, diciamo, perfetto, una sola passata, adesso andiamo a provare con le nostre calamite, se riesco a staccarla, allora, voglio provare prima con questa, proviamo qua, così, io non sono molto buona a usare le calamite, purtroppo, adesso mi si attaccano, non sono molto buona ad usarle, mi sa che devo fare un corso di calamite, di come si usano le calamite sui Ketais, mi ero preparata anche una, che adesso non so dov'è, scusate, se ogni tanto vedete muovere la fotocamera è perché ho il filo, che ho attaccato il telefono, il caricatore, e picchio dentro col filo, allora, riproviamo, dunque, dunque, di solito vedo che fanno così, così, si vede qualcosa, e io ero fuori camera anche, ciao, ne, vabbè, dove mi sono finiti tutti i brillantini, mi sono spariti tutti, mamma ragazzi, quanti brillantini c'ho dentro, c'è una galassia, questi Ketais sono una galassia, veramente, una galassia, vediamo, ecco, così mi piace tantissimo, bellissimo, stupendo, che ne dite? non so, l'unica calamita che ne scusate è questa, allora, andiamo a catalizzare, così passiamo subito al secondo, ok, questo, mi hanno fatto, poi abbiamo questo, che è il DC004, mettiamo via, questo c'è un po' il tappo aperto, questo lo mettiamo sotto, e il DC, il 4 è così, madonna mia, mamma mia ragazze, sono innamorata, persa, innamoratissima, allora andiamo al 4, ok, ma proprio la cosa che mi stupisce, come sono pieni, mamma mia, oddio, ma io impazzisco, io impazzisco, queste galassie, allo stato puro, questa propria galassia, allo stato puro, no, vabbè, poi fanno spazio, hanno dei colori, tutti dei colori miscelati, che sono qualcosa di esagerato, ok, allora andiamo avanti, con l'unica calamita, che io so usare, spaziale, spaziale, che ne dite, madonna ragazzi, aiuto, sono meravigliosi, ecco qua, poi andiamo avanti, con, il 7, vi svegli un segreto, ne ho ordinati altri due, altri due colorini, perché quando li ho aperti, io ho visto questo, questo tripudio di colori, ho detto no, ok, allora questo, ripeto, è il DC007, andiamo a vederlo, no, vabbè, che ve lo dica a fa, lo mischio un po', intanto vi lascio, questi qua, mischio un attimino, allora, ok, questo qua, lo vedo, rispetto agli altri due, leggermente più liquidino, vediamo, wow, ah, forse ho capito perché, perché ci sono quelli, quelli lì, che hanno i brillantini, più grossi, sì, è vero, adesso ricordo, e quelli che hanno i brillantini, di all'interno, un pochettino più fini, sì, sì, adesso ricordo, ecco perché, sembra, diciamo, più liquidino, è solo che, il brillantino è meno, meno grosso, diciamo, wow, anche questo è meraviglioso, ragazze, vabbè, che dire, io ve li straconsiglio, cioè, allora, se volete, il link, dello store, su Ali, non dovete far altro, che scrivermi giù, nei commentini, anzi, probabilmente, se riesco, ve lo inserisco già, se riesco a trovarlo, ok, adesso, andiamo a fare l'effetto, mamma, dove sono, dove sono, completamente fuori camera, guardate, guardate, io non so se, può rendere la bellezza, proprio, di questo, di questo, non lo so, se si vede, quanto, caspiterino, è bello, ma va sicuro, ve li consiglio, raga, allora, non sembra, che ci sia la dispersione, infatti, senza dispersione, come li amo io, che voi sapete, che io, odio, tutto ciò, che ha la dispersione, cioè, proprio, non la sopporto, mi dà un fastidio, un, proprio, un fastidio enorme, adesso, li andiamo a sigillare, intanto, apriamo l'ultimo colore, di quelli che ho ordinato, diciamo che li ho presi, un po' tutti, sulla base, del, dell'azzurro, del turchese, e, adesso li sigilliamo, ragazzi, io vi chiedo scusa, se, non mi rendo conto, vado fuori camera, ma, devo trovare, un attimino, un sistema, per non avere, la, proprio, la, la ring light, davanti, perché, cioè, proprio, mi, mi nasconde, proprio, la vista, io, non, non riesco a vedere, il telefonino, dove inquadro, dove mi sposto, e niente, quindi, perdonatemi, no, vabbè, tanta roba, poi, non si sente, neanche, in questi brillantini, diciamo, che, un po' più grossi, non si sente, non c'è neanche, lo spessore, il fastidio, di sentire, magari, un po' ruvido, no, no, assolutamente, liscio, proprio liscio, come, la pelle di un bimbo, mi sa, che mi prenderò, tutta la serie, no, ho scoperto, questo brand, per caso, girando su ali, e penso, che sarà, una, uno, oltre a, board pretty, dei miei preferiti, perché, a parte, che ho già visto, dalle, diciamo, dalle recensioni, cioè, hanno proprio, sono proprio, stellatissimi, però, vi confermo, che sono veramente, bei, 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 gran, bei prodotti, almeno, questi qua, sui Ketais, assolutamente, ve li straconsiglio, ok, catalizziamo, e passiamo, all'ultimo colorino, abbiamo detto, che è, il, DC08, anche questo, dovrebbe avere, dentro, i brillantini piccolini, infatti, si vede anche, dal tappino, infatti, wow, allora, dunque, poi, dopo che ho finito, questo, diciamo, eh, devo fare, un paio di recensioni, vabbè, vi dirò adesso, tra poco, un paio di recensioni, di cosa, non acquistare, assolutamente, c'è uno schifo, proprio, praticamente, visto che ce li ho, sotto mano, che devono finire, in pattumiera, prendo, e ve li faccio vedere, subito, non acquistateli, vi prego, perché, schifo, allo stato puro, proprio, sono poche le cose, devo essere sincera, è che mi hanno, deluso, ok, andiamo, vediamo, 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 questo spettacolo, wow, non so se si riesce a vedere in fotocamera, proprio, è un arcobaleno, madonna ragazzi, innamorata io, innamorata io, ok, questi sono, i cinque, ops, una ridaie, i cinque cretais, che vi ho presentato, e, adesso, passiamo lucido, nell'ultimo, poi vi faccio, questa piccola, recensione, di queste due schifezze, che finiscono in pattumiera, ok, tate, adesso, oh my god, no vabbè, no vabbè raga, no vabbè raga, queste galassie, l'avrò detto 50 volte, ma poi, mamma mia, poi passandoli sul lucido, cioè galassie, io un che tais così bello, mai visto, che tais così bello, veramente, complimenti a, questa azienda, perché, devo dire che, è imbattibile sui che tais, allora, dopo aver catarizzato, la passiamo subito, al tasto dolente, della situazione, allora, vi ricordate che in un video, avevo acquistato sta schifezza, che non sono riuscita a montare, beh, è durata da nata, la santo stefano, non compratelo, cioè praticamente, quello che va, guarda, non compratelo assolutamente, perché, ah, ah già, parte plastica, se dovete acquistare, acquistate le cose, le cose, io fortunatamente, ho il mio fedele, in metallo, questo, va a finire in pattumiera, via, allora, un altro prodotto, che, vi farò venire il mal di mare, che fa proprio schifo, è questo, però questo, non so se, non credo di averlo acquistato su Ali, penso di averlo preso su Sheen, insieme al, credo, quello che toglie i calli, anche questa schifezza, non la comprate, cioè praticamente, cioè, adesso vi faccio vedere, proprio, cioè, non taglia niente, e questo finirà anche questo, in pattumiera, io fortunatamente, ho anche di questo, il mio fedele, comprate tutta roba in acciaio, costa qualcosina in più, ma, fidatevi che, ne vale, queste cose, in pattumiera, niente ragazzi, io vi faccio rivedere, molto velocemente, quello che ho presentato, i colorini, veramente, promossi, niente ragazzi, io, vi saluto, e, spero che vi sia piaciuto, anche questo video, che posso avervi dato uno spunto, per dei prodotti buoni, vi mando, un grande bacio, scusate se vi ho fatto venire, il mal di mare, e, al prossimo video, ciao amiche nails, e, ,